Ma chi l'ha detto che l'integrale per fare bene deve essere per forza duro, secco, asciutto? Oggi l'integrale è diventato Buondì. Nuovo Buondì Integrale. Integrale, sì, ma fresco, soffice, fragrante, come Buondì. Per una colazione integralmente nuova, più sana, più buona. Nuovo Buondì Integrale. Integrale, sì, ma buono come Buondì.